Promozione CMT Codice 012, set composto da numero 42 punte di diametro 26, 20, 15, 14, 11, 10, 8 e 7. Scarica il PDF qui sotto per maggiori dettagli. La seguente fornitura ha uno sconto del 40% e si effettuano consegne in tutta Italia a mezzo corriere di HL. Grazie.